Ehi, 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 Frank! Sì, Jack? Sai dov'è Sullivan? No, non ne ho idea. Sapevo che sarebbe accaduto. Cosa? Mezza zucca l'aveva detto. Dimmi, cosa? Era tornato da poco a casa. E ha letto una notizia sconvolgente sul giornale. Sta accadendo qualcosa di strano. Basta, così spaventinellini. Anche loro devono sapere. Il giornale riportava una notizia orrenda. È sparita la verdura al mercato generale. Qualcuno dice sia colpa del tempo. Ma una lettera anonima riportava caratteri cubitali. presi in ortaggi Sullivan e Kevin. No, non è possibile, non è possibile. Calmati, Frank. Non è questo l'unico di farsi prendere dal panico. No, non si sto. Non è possibile. Si salvi chi può. Non è possibile. Dobbiamo rimanere razionali. Oh no, non si sto. Non è possibile. Non è possibile. Dobbiamo andarsene. Scappiamo. Si salvi chi può. No, non è possibile.